la famiglia monetti riconsegna le chiavi della casa sgomberata beneficenza a processo il caso della giornata del dono 200 posti in più negli asili estivi di pesaro fano pronta a imbandire la nuova tavola del brodetto feste vl crisi nera con scaffati la quarta sconfitta consecutiva ben ritrovati al nostro telegiornale oggi è lunedì 17 aprile e apriamo questa edizione con la conclusione di un caso pesarese salito alla ribalta nazionale quello della delicata storia al confine fra rispetto delle leggi e tutela della disabilità che ha riguardato la famiglia pesarese monetti dopo due mesi di tira e molla di mancati sgomberi questa mattina la famiglia ha riconsegnato le chiavi dell'abitazione sotto sfratto da questa mattina è iniziata una nuova vita per la famiglia monetti un percorso tortuoso che però sarà intrapreso distante dalla loro palazzina in via persoria ormai non più di loro proprietà alle ore 11 di oggi 17 aprile è stato il giovane alessandro a consegnare le chiavi del civico 53 al custode cautelare pratelli ponendo fine una volta per tutte ad una storia complicata e tormentata dopo sei slittamenti in poco più di due mesi la famiglia monetti ha liberato l'appartamento nella giornata di domenica 16 aprile spostandosi temporaneamente a casa di una zia a villa san martino un appoggio momentaneo in attesa che la loro nuova abitazione a loreto in cui saranno in affitto venga liberata entro il primo di giugno avevamo metabolizzato già da tempo fa quindi abbiamo abbiamo preso il toro per le corna dai ci dobbiamo uscire usciamo sinceramente lasciare quel mazzo di chiavi anche se è un mazzo di chiavi piccolo ma ha tolto un peso grosso quindi dai svoltiamo pagina andiamo avanti ripartiamo da lì tiriamo una riga e ricominciamo finalmente siamo riusciti a mettere la parola a fine non nel modo migliore che speravamo noi però dai va bene va bene lo stesso insomma adesso noi abbiamo un appoggio che non è adeguato però che ci può che ci può ospitare tutti quattro insieme che non è poco perché non avevamo neanche questa questa sicurezza qui noi dal nostro punto di vista personale e di famiglia come coscienza siamo siamo a posto con tutto e con tutti abbiamo fatto il meglio possibile per fare il primo possibile con le migliori soluzioni spero che le altre persone che tutte le persone che hanno partecipato insomma a questa vicenda dalla parte opposta abbiano la coscienza a posto come l'abbiamo noi tra uno sgombero rinviato e un altro i moneti hanno iniziato a inscatolare mobili e vestiti sapendo bene che prima o poi il giorno sarebbe arrivato loro chiedevano ancora un mese di tempo ma la legge alla fine non l'ha permesso chiuso per sempre il portone di casa loro come a lasciarsi indietro un abissale passato da ieri hanno messo piede per la prima volta nella loro passeggera sistemazione di 60 metri quadri non l'avevo mai vista io sono arrivato ieri la prima volta sono ci ho dovuto dormire è andata bene dai diciamo che è andata bene abbiamo dormito benissimo moltissimo dobbiamo prendere le misure chiaramente perché è uno spazio piccolo è una casa piccola quindi in quattro è molto difficile adesso un attimo gestirsi però dai abbiamo tutto ancora in giro scatoloni e quant'altro poi magari quando togliamo un po' di cose dal mezzo riusciamo un pochino a prendere una misura un po' meglio in questi mesi tutt'altro che semplici per la famiglia Moniti sono state numerose le istituzioni che hanno preso a cuore la loro storia accompagnandoli in questo percorso di rinascita ci hanno seguito sì il comune, ci ha seguito il prefetto, il questore, la col diretti noi dobbiamo praticamente ringraziare tutti ce l'abbiamo anche stamattina nella consigliere regionale quindi non sono anche istituzioni piccole ringraziamo anche l'assessore Enzo Belloni che comunque lui ci ha dato sempre un appoggio quasi praticamente come se fosse di famiglia perciò è stata sempre una mano sulla spalla che ha fatto il suo dovere maggio sarà un mese importante per i Moniti non solo per adattare con degli ausili la loro nuova casa di Loreto per le disabilità di Alessandro ma anche per la riapertura della causa civile sull'incidente del 25 maggio 2014 che ha per sempre cambiato la storia del 26enne della sua famiglia a distanza di quasi 9 anni sarebbe emerso un testimone pronto a dichiarare davanti al giudice quanto visto quella notte ci sarà l'audienza a maggio, prima era una data adesso è stata spostata quindi ancora non abbiamo il giorno preciso magari quando lo avremo si farà sapere e speriamo di ricevere da lì quello che in teoria ci spetta ci sarebbe spettato già da prima ma purtroppo per varie vicissitudini di movimenti sbagliati di persone sbagliate che ci attorniavano non è successo quindi adesso speriamo anche in quello, se riusciamo ad avere quell'aiuto lì riusciamo comunque ad avere una tranquillità diversa e maggiore, sicuramente migliore E sei domandato il perché magari questo testimone è apparso solamente ora? Ma sì, più di una volta, poi secondo anche magari l'avvocato vedendo il discorso della raccolta fondi, noi poi siamo finiti sul Corriere della Sera sicuramente avrà visto un articolo nazionale o un qualcosa, è venuta a conoscenza del fatto e si è fatto avanti meglio tardi che mai, se fosse stato prima sarebbe stato meglio però comunque è un barlume di luce e di speranza che si è acceso in un momento veramente buio Una storia davvero molto delicata, quella della famiglia Monetti così come quella che riguarda ora la Onnus Gulliver ha processo per un'operazione di beneficenza accusata di essere fuori legge Vediamo il servizio Anche la beneficenza finisce sotto processo E quanto sta accadendo alla Gulliver, Onnus impegnati in una miriade di progetti di solidarietà cittadina e al suo presidente Andrea Boccanera che ha ricevuto una denuncia dalla ditta Nicoletti per aver gestito una raccolta rifiuti senza autorizzazione Quelli che l'accusa ritiene rifiuti sarebbero indumenti usati, raccolti attraverso volontari, parrocchie, associazioni e reindirizzati verso i più bisognosi nella cosiddetta giornata del dono risalente al 2020 Indumenti raccolti e destinati in beneficenza che però risulterebbero un mancato guadagno per la ditta Nicoletti deputata a Pesaro a raccogliere i suddetti abiti fra i cossonetti adibiti a tale scopo e che appunto ha denunciato la Gulliver per presunta gestione non autorizzata dei rifiuti Ditta che si è costituita a parte civile chiedendo un risarcimento danni di 15.000 euro per il dirottamento verso questa giornata del dono Proprio sulla tipologia di evento, reputato ben diverso da uno smaltimento rifiuti si è opposta la difesa di Boccanera e della Gulliver andando al processo per ottenere l'assoluzione La sentenza è prevista per il 22 maggio nel Tribunale di Pesaro Ed ora cambiamo argomento e parliamo di furti Esattamente 5 denunce di furti in appartamento sono arrivate infatti ieri sul tavolo della questura di Pesaro per altrettanti blitz di ladri avvenuti in città sabato sera In tre case di pantano della zona Baratov e di case bruciate sono state rubate alcune centinaia di euro fra contanti e gioielli Due colpi sono invece andati a vuoto in zona Montegranaro probabilmente per il rientro anticipato dei residenti che hanno trovato la casa a soquadro Secondo gli inquirenti i colpi potrebbero essere stati tutti commessi da un'unica banda che in ogni caso è penetrata dopo effrazione delle finestre Ed ora parliamo di una buona notizia attesa dalle centinaia di famiglie pesaresi che lo scorso anno erano rimaste escluse dai servizi estivi di asilo nido e scuola dell'infanzia Con una variazione di bilancio infatti il comune di Pesaro ha investito più risorse in questo settore presentando quindi oggi 195 posti in più per l'estate 2023 Risorse più consistenti per una maggiore capacità di risposta alle esigenze delle famiglie Quelle con figli in età d'asilo nido e scuola dell'infanzia che lo scorso anno hanno faticato terribilmente a trovare un servizio estivo adeguato alla loro conciliazione famiglia lavoro Quest'anno aumentano invece nidi e asili per il periodo estivo dopo le maggiori risorse di bilancio riversate su questa esigenza Un grande sforzo da parte dell'amministrazione per quest'estate 2023 che risponde, speriamo, alle richieste pervenute durante la scorsa estate per il servizio estivo a Pesaro Quest'anno la grande novità è uno sforzo su quella fascia di età particolarmente sensibile che è lo 0-3 anni, una promessa che avevamo preso con i genitori lo scorso anno appunto è che quest'anno prevede l'apertura di 7 nidi ovvero due strutture in più per quest'estate che consentiranno la frequenza a circa 100 bambini in più che erano quelli rimasti in lista d'attesa nello scorso anno e una scuola dell'infanzia in più rispetto a quello che era l'offerta dello scorso anno quindi 6 scuole dell'infanzia, 7 nidi più 25 posti della sezione primavera riservati a quei bambini che già frequentano quelle sezioni ma che si aggiungono un'offerta molto ampia dei servizi educativi quest'anno in più un contributo che viene confermato per la frequenza dei centri estivi privati per i 3-6 anni che prevede appunto la possibilità di richiedere il contributo a stagione terminata per quelle famiglie più fragili che invece intendono per comodità logistica o per far provare un'esperienza diversa ai propri figli frequentare un centro estivo privato e la città fortunatamente ne ha tantissimi stiamo parlando di più di 200 posti riservati alla fascia 3-6 anni delle strutture private e ancora di più le scuole paritarie che partecipano a questa offerta molto variegata che quest'estate 2023 prevede e che consente una risposta di una città che si prende cura dei propri bambini una città che cura e che educa le nuove generazioni una risposta alle famiglie pesaresi che soddisfa anche l'opposizione in consiglio comunale che più volte aveva sollecitato questo tipo di intervento Meglio tardi che mai, finalmente dopo un anno, con un anno di ritardo la giunta pesarese riesce a dare risposte in maniera concreta a quello che era stata la nostra sollecitazione, mia e del consigliere Andreoli in particolare lo scorso anno purtroppo ci eravamo trovati nella condizione di vedere escluse 100 famiglie dai nidi estivi e all'incirca altrettante nelle materne avevamo chiesto un intervento preciso e puntuale della giunta soprattutto sulla fascia 03 in cui manca un'offerta integrativa privata alternativa quest'anno arriva grazie a quelle che sono le risorse che riusciremo a recuperare dalle bollette che hanno visto abbattere il loro costo e siamo molto contenti che l'amministrazione comunale intenda investirle in questo modo le scuole dell'infanzia aperte per il servizio estivo saranno la grande quercia i tre giardini, il grillo parlante, il poi poi, il Peter Pan e il Mary Poppins per quel che riguarda i nidi, aperture estive per albero azzurro, aquilone, girotondo, macondo, mondogaio mille storie e nuvole di cotone si amplia l'offerta delle scuole disponibili, si ampliano anche i criteri d'accesso si sono modificati anche quelli che sono i criteri delle graduatorie per accedere ai servizi estivi con un'ultima delibera di giunta di alcune settimane fa che prevedono dei punteggi anche per quelle persone che si trovano in mancanza di lavoro da meno di sei mesi e che potranno avere un punteggio riconosciuto anche per questa situazione di precarietà e ancora di più per la pendolarità dei punteggi più puntuali che si basano non tanto su dei calcoli approssimativi di Google Map come era negli anni precedenti ma un calcolo puntuale dal punto di partenza al punto di arrivo e anche questa è meritocrazia e giustizia verso chi fa domanda Ed ora ci spostiamo a Fano dove riprendono gli scavi archeologici di via Vitruvio a seguito di un finanziamento di 45 mila euro concesso questo weekend dal Ministero della Cultura che ha dato l'ok a continuare ad approfondire gli studi sui ritrovamenti nel sottosuolo del centro storico fanese I reperti archeologici nelle scorse settimane sono saliti alla ribalta nazionale per il presunto ritrovamento della leggendaria basilica citata da Vitruvio nel De Architettura A coordinare l'indagine archeologica è la soprintendenza delle Marche che farà ulteriori approfondimenti nei prossimi tre mesi Dopo luglio si faranno ulteriori valutazioni sulla prosecuzione Una bomba risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stata fatta brillare ieri mattina dagli artificieri dell'esercito all'interno della cava stroppato al confine fra i comuni di Pesaro e Tavuglia L'ordigno del peso di 230 kg era stato trovato il 28 marzo in un cantiere di società autostrade in strada del Monte Feltro L'operazione coordinata dal reggimento Genio Ferrovieri di Bologna è stata realizzata con una detonazione a distanza Rispetto alla bomba fatta brillare il 4 dicembre scorso non è stata necessaria alcuna evacuazione dei cittadini Visto il perdurare delle basse temperature il Comune di Pesaro ha emesso un'ordinanza che prolunga l'accensione dei riscaldamenti in città fino a domenica 23 aprile Il regolamento prevede un'accensione di 5 ore e 30 minuti nella fascia oraria che va dalle 5 alle ore 23 Resta l'obbligo di non superare la temperatura di 19 gradi Fermignano in festa ieri per la 57esima edizione del Palio della Rana che ha radunato in paese 10.000 visitatori in tre giorni a vincere la rievocazione storica la contrada bianco-blu della torre con la cariola del contradaiolo Gregorio Clini primo sul traguardo Simone Buicic della contrada Santa Barbara ha invece vinto il Palio dei Putti Corsa con le rane meccaniche dedicata ai più piccoli A Palazzo Ducale di Urbino tornano invece le grandi opere pittoriche prestate dalla Galleria Nazionale delle Marche alle scuderie del Quirinale per la mostra Arte Liberata che a Roma è stata visitata da 56.000 visitatori opere che torneranno esposte a Urbino il 25 aprile giornata in cui l'ingresso al museo sarà gratuito Ed ora da Urbino ci spostiamo a Fanno parliamo di tutt'altro genere di eventi in questo caso parliamo della nuova edizione del Brodetto Fest Abbiamo deciso di anticipare non più di chiudere la stagione ma di aprirla a beneficio chiaramente della città a beneficio di tutti gli operatori del mondo della pesca del mondo della gastronomia Quello che vogliamo fare quest'anno è tornare a far conoscere la freschezza ecco perché del nostro pesce ecco perché dicevo non sarà più a settembre periodo di fermo pesca ma sarà nella prima settimana di giugno dall'1 al 4 giugno perché comunque avremo la disponibilità totale dei marinai ma soprattutto del pescato l'opera Una bella promozione una bella valorizzazione come Camera di Commercio abbiamo visto anche i dati dello scorso anno dal punto di vista economico che di fatto sono importanti per una città come Fanno abbiamo detto di alzare l'asticella e questa asticella si sta alzando è molto importante anche il lato della sostenibilità questo dobbiamo dirlo perché è un incipit anche per fare incoming a livello turistico perché anche come Marche come distretto biologico più grande d'Europa è chiaro che dobbiamo far sì che non sia solo un lato enogastronomico attenzionato ma anche il lato turistico quindi tutto insieme per la valorizzazione del territorio e per la crescita economica delle stesse imprese territoriali Questi 21 anni è cresciuto moltissimo è diventato un elemento anche di forte promozione non è in caso che anche nelle prossime settimane saremo in giro per l'Europa a raccontare e a valorizzare il Brodetto e quindi è un elemento culturale ed economico quindi molto importante per il nostro territorio Noi con lo studio che abbiamo effettuato in merito al Brodetto Festa abbiamo rilevato le spese sostenute dai visitatori del Brodetto tenendo conto sia dei non residenti venuti apposta per il Brodetto quindi con le spese anche di pernotamento soggiorno e spese accessorie sia dei residenti che comunque sono venuti a visitare il Brodetto Fest e hanno anche loro fruito delle occasioni di consumo del Brodetto Ecco tutto questo ci ha portato a misurare in termini di numero di visitatori siamo oltre 19.000 visitatori che il Brodetto Fest è riuscito ad attirare e un valore complessivo di spesa quindi un effetto economico generato da Brodetto Fest di oltre 2 milioni di euro che diciamo 2.160.000 euro circa Lo studio ci dice che il Brodetto riesce a mantenere i turisti nella nostra città in un momento dove il turismo tende a calare perché andiamo in un periodo di bassa stagione e il fatto di spostarlo a giugno il fatto di raccontare sempre e continuamente che abbiamo bisogno di destagionalizzare ci fa pensare ad un progetto vero che funzioni nella nostra città ovvero la tradizione marinara che si lega poi al pescato che si lega anche a questa forte necessità di far valere la gastronomia della nostra città ecco ci aiuta a raccontare le nostre prelibatezze ci aiuta a raccontare i contesti in cui viviamo ci aiuta a fare il turismo anche in bassa stagione Dal gusto del pesce a quello dei vini celebrati questo scorso fine settimana al sesto Pesaro Wine Festival un evento che attira sempre tantissime persone una rassegna che approfondiremo anche in uno speciale dedicato che trasmetteremo domani sera su Rossini TV alle 21.40 ma del quale intanto vi facciamo vedere alcune anticipazioni Amiche e amici di Rossini TV guardate dove siamo oggi siamo all'interno di Villa Caprile una nuova location per l'edizione del Pesaro Wine Festival 2023 e beh la gente ha risposto molto positivamente siamo appena entrati e cominciamo a vedere un po' i produttori e le persone che sono incuriosite da questa nuova location e insomma andiamo a conoscere un po' di curiosità su questa edizione 2023 Questo è il sesto anno e considerando purtroppo i due anni della pandemia che non siamo potuti diciamo così andare in onda però siamo insomma dai ritornati con grande fermento con grande voglia e quest'anno poi la regione Marche ha acceso una luce oltre al comune di Pesaro che ci ha sempre patrocinato non è nemmeno un caso che ci troviamo in un istituto agrario quindi diciamo era proprio nelle corde degli organizzatori dell'organizzazione avvicinarsi alla didattica l'ho detto tantissime volte finalmente diciamo anche da questa ottima collaborazione con l'istituto Cecchi Quante cantine sono presenti? Guarda credo che oggi ci siano circa 50 cantine da tutta Italia è il primo anno che ospitiamo una distilleria anzi due distillerie per cui vedi che anche il festival non è così diciamo chiuso in se stesso ma è ben aperto e ben propenso a a qualsiasi tipo di collaborazione che riguardi la qualità Siamo una nuova realtà sul territorio pesarese abbiamo 24 ettari di terra all'interno del parco del San Bartolo e oggi presentiamo questo bellissimo evento con le nostre etichette abbiamo realizzato 6 etichette 3 bianchi un nuovo spumante che è uscito praticamente due settimane fa e i nostri pinot che sono vinificati in rose e vinificati in rosso che sono i nostri vini di punta Come possiamo vedere è un appuntamento con una presenza importante soprattutto tante aziende, cantine sia del territorio che di fuori regione importanti quindi un momento di convivialità, di promozione del territorio incentrato sul vino che è veramente un elemento trainante ormai in maniera sempre più chiara noi come Regione Marche veniamo dalla presenza al Vinitali pochi giorni fa dove c'è stata veramente una grande attenzione per i vini martigiani e soprattutto abbiamo potuto nuovamente constatare come intorno al vino si muovano veramente tante tante altre cose ed è una possibilità enorme proprio anche per raccontare il territorio Ed ora chiudiamo questa edizione come di consueto del lunedì con lo sport locale con delle sconfitte pesanti per WL e Vispesaro mentre nella ginnastica ritmica la marchigiana Sofia Raffaelli fa incetta di ori mondiali vediamo allora questo ultimo servizio La penalizzazione di Varese aveva ringalluzzito ambizioni da playoff che la prova del campo ha riaffossato in maniera pesante facendo scontrare la WL con la dura realtà di questa primavera La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro perde anche in casa con la Givova Scafati un 79-86 che mette il dito nella piaga di una crisi profonda in cui Charalampopoulos mette a segno 33 punti ma predica nel deserto di una squadra che a fatica tiene il muso avanti per tre quarti di match prima di andare in tilt nell'ultimo parziale con i campani che sorpassano e prendono largo fino a decretare la quarta sconfitta consecutiva bianco-rossa accompagnata dalla colonna sonora dei fischi e dei tifosi Un contesto pesante da metabolizzare in fretta perché mercoledì sarà di nuovo a campionato in casa di Treviso, 4 punti dietro ai pesaresi Nel calcio la penultima giornata di Serie C ha emesso la prima sentenza per la Vis Pesaro i bianco-rossi perdono 2-0 Cesena e sono aritmeticamente condannati ai play-out Partita senza storia al Manuzzi con i Romagnoli che dominano un match in cui la Vis non sarà mai pericolosa in avanti decidono le reti di Silvestri al 28esimo e di Cristian Spendi a tempo scaduto La Vis scende al quarto-ultimo posto e nell'ultima di regular season Albenelli con la Carrarese avrà l'obiettivo di cercare il più comodo piazzamento negli spareggi Sarà post-season anche per il Fano con l'Alma che blinda il quarto posto dove aver battuto 3-1 il Montegiorgio con reti di Zanni, Severini e Nappo che li lanciano verso i play-off Nella pallavolo la Megabox Vallefoglia vince gara 1 di Challenge Cup con Pinarolo per 3-1 Dulcis in fundo la ginnastica ritmica con la marchigiana Sofia Raffaeli che tiene altissimo il tricolore alla World Cup in Uzbekistan L'atleta chiaravallese della ginnastica Fabriano fa incetta di ori a Tashkent Ben 4 di specialità fra cerchio, palla, clavette e nastro oltre all'oro all'around E allora davvero tanti complimenti alla ginnasta Sofia per queste belle vittorie Noi siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale ma vi consigliamo di restare collegati su Rossini TV perché c'è una ricca prima serata Partiamo alle 21.20 con una nuova puntata di Check Up Obiettivo Salute e con noi questa sera ci sarà il dottor Luca Brandi che parlerà di miopia Subito dopo invece andiamo a parlare ai più giovani della generazione Z nel nostro spazio Z La nostra Letizia che vedete lì nell'immagine alle 21.40 vi parlerà della seconda parte che abbiamo registrato con i ragazzi della Pesaro Athletic Field E poi vi ricordiamo la nostra rassegna stampa Domani come sempre vi aspetto io per la lettura dei titoli dei quotidiani locali alle 7.20 Mentre vi ricordiamo il prossimo appuntamento, il secondo appuntamento con Amministrando questo nuovo format di Rossini TV Avremo mercoledì sera alle 21.20 Nicola Baiocchi dal Consiglio regionale Ed ora vediamo come sarà il meteo per i prossimi giorni Vi auguro una buona serata Vi auguro una buona serata